A questo evento che come abbiamo detto impostava tutta la discussione su un filo in qualche modo di un collegamento tra la bellezza, l'arte, la politica e quindi anche l'entusiasmo, la sensazione che può suscitare un'opera d'arte, incontriamo Francesco Bronzi. Ci sta anche una sua esposizione di quadri, proprio vicina alla sala dove si sta svolgendo questo appuntamento del cantiere. Come mai questa vicinanza a questo evento? Perché sono stato invitato a questo evento, anche se in effetti non sono propriamente un pittore, nel senso che sono uno scenografo, ma col tempo mi sono appassionato a un certo tipo di disegno. Ho cominciato molti anni fa, poi ho abbandonato perché il cinema naturalmente ci porta spesso lontano, siamo molto occupati nel costruire scene in qualsiasi posto del mondo. Quando adesso, avendo più tempo a disposizione, perché perlomeno il cinema che ero obituato a fare io è un po' in crisi, ho ricominciato a disegnare. Mi diverto, è un divertimento praticamente, non voglio trasmettere nessun messaggio con i miei disegni, è un omaggio alle donne, anche se faccio tutte donne di metallo, come avete visto. Però è senza volto, tra l'altro, perché la bellezza della donna è dentro e quindi mi sono divertito a fare queste donne di metallo, molto tenere comunque, perché anche se hanno delle proporzioni enormi, sono delle donne gigantesche, fatte tutte con pezzi di metallo, tutte quante hanno qualche cosa vicino di molto poetico. Non so se avete visto nella serie di disegni, ce n'è una che dorme su una maca che è trasportata dagli uccelli, il titolo è La vene di metallo e il sonno leggero. E poi ce ne sono altre invece che sono adagiate su dei drappi rossi di velluto, altre che hanno in mano dei fiori. Insomma è un rapporto tra la forza straordinaria della donna e questa bellezza interna e interiore che hanno e questa poesia che trasmettono con i loro gesti, con questi piccoli oggetti che secondo me sono degli oggetti di carattere molto tenero, molto poetico direi. E quindi diciamo con questa suggestione che ci trasmette Francesco, la bellezza e anche la forza che trasmette la bellezza interiore della donna, speriamo anche che questo appuntamento accorre che ispirazione anche da questa forza per provare a dare un contributo a questa nostra Italia, visto che è un'associazione politica che si sta adesso riunendo. È vero, è vero. Per risolvere i problemi spesso ci vuole una grande forza, una grande determinazione. Le donne sono più determinate degli uomini in senso generale perché sono anche per la maternità, per le difficoltà che hanno trovato nella vita, sono molto determinate. Io lo vedo anche attraverso, siccome insegno anche scenografia, lo vedo nel gruppo dei miei allievi. Le donne hanno una determinazione e una volontà incredibile di andare avanti, di superare gli ostacoli. Un po' per questo, un po' perché effettivamente amo le donne in senso assoluto, ho pensato di disegnarle così. Qualcuno mi ha domandato ma perché di metallo, se la donna è così bella, tenera, la pelle della donna è straordinaria, le forme delle donne sono straordinarie. Prima di tutto perché ci sono altri più bravi di me che disegnano le donne così come sono. E poi perché comunque l'arte deve sempre suggerire qualcosa di diverso. E quindi mi divertiva fare queste donne che all'aspetto sono forti, robusti e indistruttibili, come in effetti sono le donne. Soprattutto quando sono mari, una donna che diventa una mari è un essere indistruttibile. E così le ho disegnate di metallo. Con molto amore, con molti dettagli, viti, bulloni e altre cose. Mi diverto, mi diverto. Grazie a Francesco Bronzi. Grazie a voi.